Affrontare la diversità nel teatro è un'esperienza dense e affascinante, così Andrea Porcheddo nel suo ultimo lavoro. Cosa c'è da guardare? La critica di fronte al Teatro Sociale d'Arte, edito da Que Press, presentato a Castrovillare all'interno del Festival Primavera dei Teatri. Cosa c'è da guardare? La critica si interroga sul Teatro Sociale d'Arte. C'è molto da guardare. Il Teatro Sociale d'Arte è una delle esperienze più interessanti che stanno avvenendo nell'ambito della creatività teatrale italiana e non solo. All'estero lo chiamano Applied Theater, Interactive Theater. Comunque c'è molto da guardare perché ci sono attori, ci sono persone, ci sono registi che ci stanno raccontando attraverso gli strumenti del teatro un'umanità nuova e diversa. Delle difficoltà, dei disagi, ma anche tanta utopia per un mondo migliore, si potrebbe dire. Un mondo che sia inclusivo, che sia di confronto. Il teatro serve, serve tanto in questi casi per creare nuove comunità. Tanti artisti si sono cimentati con questa arte delicata e complessa, raggiungendo risultati a volte sorprendenti. Pubblico e critica sono sempre più educati a vedere e misurarsi con spettacoli che hanno al centro la diversità nei testi come nei protagonisti. Che cos'è il teatro sociale d'arte? È il teatro del disagio? Nasce dal disagio? Beh sì, questa è una definizione, il teatro sociale d'arte è una definizione che ho provato a dare perché è un teatro che nasce da contesti di disagio, il carcere, i malati di mente, l'ospedale, la periferia, i tossicodipendenze. Però all'interno di questi contesti naturalmente si stanno creando delle opportunità di dar vita a spettacoli veri e propri che sono bellissimi. Quindi è un teatro sì sociale, che nasce appunto dall'interazione sociale, da questa creazione di comunità di cui dicevamo, ma che ha degli effetti scenici straordinari che ci commuovono, ci fanno piangere, ci fanno divertire. E quindi arriva l'arte, arriva l'arte come un elemento in più, come un elemento diverso che ci fa vivere il teatro ancora come un'esperienza magnifica. Arte come emozione? Come emozione, come pensiero, come riflessione e anche come politica, insomma come segno politico di un modo di intendere la vita, di essere cittadini diverso da quello che ci vogliono far credere. Non ci sono scontri o barriere culturali, possiamo stare anche tutti insieme. Interessante poi il laboratorio di Roberto Latini, tenutosi all'interno del Castellaragonese di Castrovillari, dove ai partecipanti è stato richiesto lo sviluppo di una scena partendo da testi, frammenti, suggestioni legate alla misura unica e personale che ognuno su un palco può avere. Una vera e propria riflessione sui modi, i tempi, i ritmi e i percorsi della scrittura che diventa scenica. Grazie!